hai giunto ora il momento di saltarci ringraziamo subitamente adesso con la ulti e per la giornata che lì per la gente di ospedalità con cui siamo stati accolti in questa bellissima sala da ossa è stata per noi una bella avventura è bello a continuare a trascorrere un bel po' di giocantati assieme il nostro scopo è soprattutto quello di creare un momento di pregazione come dicevamo, di trascorrere dei momenti assieme ai nostri figli di insegnare loro le nostre tradizioni ringraziamo anche le nonne le mamme e i bambini che sono venuti alle prove ma non hanno potuto partecipare oggi con noi all'esecuzione sul petto scenico e a quelle mamme che ci seguono online e vi insegnano le canzoni insegnano le canzoni da noi proposte a casa in macchina o in campeggio grazie a nonno Tullio con la sua roma ancora grazie a Tamara Nessio che ha fatto nascere il coro delle mamme e ci ha dato ancora una volta ospedalità alla scuola Zulca per le prove di Ima vi salchiamo con l'ultimo brano un pochino improvvisato e speriamo perdito con la speranza di avermi fatto trascorrere un'ora in allegria e ovviamente per la nostra direttora Ipi! Orà! Ipi! Orà! Ipi! Orà! 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 Oà! Orà! Orà!